Nuovi palcoscienci e celebrare nuovi successi, noi viviamo per il calcio e WimTV. Quando si insinuano le cari per un'occasione speciale, nuove di crociore di stonore effettiva di gestione ti escludono da momento, ma se succede puoi trovare i cari su un crociore di gestione. Forma rapidamente la barriera protettiva che impedisce il russo e neutralizza l'accelo in eccesso. Così puoi tornare a dove va.